I militari della stazione Carabinieri Forestale di Buccino hanno scoperto una discarica abusiva di rifiuti speciali in località Macchitelle del comune di Siciniano degli Alburni. All'interno di un terreno agricole i militari hanno scorto attraverso osservazione dall'alto un'area colma di effluenti di allevamento. La superficie dell'invaso, realizzato mediante scavo del terreno e coperto nella parte visibile da guaina isolante e di circa 1.500 m2 per un volume di 6.000 m3. Responsabile degli sversamenti, un allevamento bufalino situato a 500 m di distanza. Le verifiche presso l'allevamento hanno consentito di tracciare la condotta e verificare con esattezza il percorso del refluo che dal sito aziendale, attraverso un sistema meccanico di pompe e condotte, porta i reflui zootecnici nel vascone. I militari hanno sequestrato il sistema di tubature e scarichi utilizzati per smaltire i reflui oltre che l'intero invaso e deferito all'autorità giudiziaria il responsabile.